Martedì 27 febbraio San Gregorio, è il 58esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 308 al termine. Il sole sorge le 6.53, tramonta le 17.54, la luna si leva alle 21.03, tramonta le 8.03. Una legge emessa dal maggior consiglio proibisce a qualsiasi persona, compreso il Doge, di ostacolare l'operato degli avogadori di comune, incaricati della custodia dei beni dello Stato. Le previsioni per domani ce l'ho coperto, salvo qualche possibile schiarita verso sera, precipitazioni da diffuse a sparse, indiradamento a fine giornata. Limite delle nevicate è grossomodo 1200-1500 metri sulle Dolomiti e 1500-1800 metri sulle Prealpi. Per le temperature si prevedono in quota variazioni poco significative, altrove contenuti aumenti specie in pianura.